Nella legge di stabilità approvata nei giorni scorsi dal Parlamento per la Sardegna c'è un taglio di circa 300 milioni di euro. Tanti sono stati valutati, i tagli alle regioni di Stato Speciale, nel riparto appunto tra le regioni speciali. Il taglio è evidente, costituisce un ammanco importante per le casse della Regione. I parlamentari sono stati anche convocati dalla Regione per definire la strategia per limitare questo danno. Ci sono due ordini di problemi, quello economico da una parte e quello statutario, costituzionale dall'altra. Questi tagli non potevano essere introdotti in una legge di stabilità in quanto occorre perseguire il regime pattizio che vede l'accordo, l'intesa tra lo Stato e la Regione rispetto ai tagli o comunque alla partita delle entrate. Questo non è avvenuto, è stato introdotto su mia proposta un elemento di salvaguardia nell'ultimo articolo della legge di stabilità ma che non cambia la sostanza e per questo motivo io ho votato contro il provvedimento e ho aspicato che anche tutti gli altri parlamentari facessero altrettanto. In molti casi bisogna mettere da parte l'interesse di partito e far prevalere quello della Sardegna era una questione di dignità, votare contro perché la Sardegna di fronte a questo governo sempre più centralista e contro le regioni speciali andava difesa alla nostra isola e alla nostra regione.